Presentata questa mattina presso la Camera di Commercio di Lecce è la decima edizione di AgroGepaCioc, Salone Nazionale della Gelateria, Pasticceria, Cioccolateria e dell'Artigianato Agroalimentare, in programma a Lecce dal 7 all'11 novembre nel centro fieristico di Piazza Palio. Il Salone è organizzato dall'Agenzia Eventi, Marketing e Communication, è promosso da Camera di Commercio, Confartigianato Imprese, Confcommercio, Confesercenti, CNA, Union Alimentari, Confapi, Coldiretti e Confindustria Lecce, con i patrocini di Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Regione Puglia, Union Camere Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Lecce e con l'attiva collaborazione delle associazioni di pasticceri, panificatori e pizzaioli salentini, aderenti a Confartigianato Imprese e dell'associazione Cuochi Salentini. Il prestigio e l'importanza della fiera, a seconda a livello nazionale solo al CIGEP di Rimini, sono riconfermati dalla presenza di numerosi espositori provenienti da tutta Italia, che presenteranno ad Agro Cepacioc le novità più interessanti riguardo a materie prime, impianti e attrezzature, arredamento e servizi per la gelateria, pasticceria, ristorazione, pizzeria, panificazione artigianale.